Benvenute e benvenuti a Woman Pride, parata dell'orgoglio femminile di Donna Reporter. 20 interviste a donne che con il loro lavoro incrinano il muro del silenzio sulla condizione delle donne, ingiustizia sociale, criminalità organizzata e conflitti dimenticati. Oggi con noi è Elena Pasquini, che ringrazio di aver accettato il nostro invito. Ho invitato Elena dopo aver scoperto il suo libro La meccanica della pace e ora che l'ho letto sono doppiamente entusiasta che abbia accettato il nostro invito. Elena è giornalista, da oltre 20 anni collabora con le testate italiane a estere, tra cui Messaggero e Avvenire. Ha seguito le politiche di sviluppo internazionale della comunità europea da Bruxelles. Si è occupata di politiche agricole globali e il suo sito, Degrees of Latitude, è content partner dell'agenzia Interpress Service, voce del sud e del mondo. Esperta di interventi umanitari e conflitti, cooperazione internazionale e sviluppo, è membro della ONLUS Lazio Chirurgia Solidale, impegnata in missioni medico-sanitarie nel Degree. È autrice del libro La meccanica della pace, pubblicato il 30 giugno del 2022, su cui vorrei soffermarmi. Elena, la prima domanda è semplicissima. Per chi hai scritto a questo libro? Grazie Fiorella, grazie per questa opportunità. Mi fa davvero molto piacere poter essere qui e raccontare qualcosa della mia esperienza di questo libro e anche delle donne di cui scrivo. Ho deciso di scrivere questo libro poco dopo l'invasione rossa dell'Ucraina, perché in effetti ho sentito davvero un'urgenza, perché il dibattito pubblico in quel momento si era ovviamente concentrato su tutti gli aspetti militari, sulla guerra, sulle dinamiche del conflitto, ma la questione delle strade che si potevano aprire a un processo di pacificazione restavano un po' nell'ombra e soprattutto si trattava di un dibattito, e si tratta tuttora di un dibattito fortemente polarizzato, quindi in qualche modo privo di quella complessità che serve invece per entrare dentro un meccanismo come è quello del processo di pace, di tutti quei processi che permettono in qualche modo di evitare escalation, di fermare un conflitto e di costruire una pace a lungo termine. Parlo di complessità perché noi abbiamo un'idea quando utilizziamo la parola pace, di solito facciamo riferimento a due concetti fondamentalmente, uno la pace come desiderio, come utopia, quindi in fondo come qualcosa di irrealizzabile, perché le guerre tornano, perché le guerre sono parte del nostro mondo, del nostro sistema di relazioni tra i popoli, sembrano qualcosa che non possiamo in fondo sconfiggere, oppure semplicemente come un processo che a un certo punto si decide che ci si siede a un tavolo, la pace si firma, è un accordo e più o meno la questione finisce lì. In realtà parliamo di processi molto più complessi, dove contano tantissimi fattori, quindi raccontare la guerra e di conseguenza raccontare quelle che sono le possibilità e le prospettive di pace all'interno di un qualunque conflitto richiede entrare dentro una complessità che noi spesso non riusciamo, non vogliamo affrontare e questo in qualche modo mi ha mosso perché nel lavoro in particolare che ho fatto, coprendo organizzazioni internazionali, organizzazioni che lavorano sul campo per costruire questi processi, mi sono resa conto che un po' le storie che ci sono dietro il lavoro di tutte queste persone non hanno così tanta voce. Ce l'ha la guerra, questo sicuramente, ma in questo momento peraltro, perché poi c'è lì un'altra pagina che si apre che è sterminata, per cui in realtà noi la guerra non la raccontiamo, non l'abbiamo raccontata fino ad ora, quasi mai, perché la guerra esiste in luoghi lontani, lontani da noi e fin tanto che noi non affrontiamo questo tema ovunque e quindi lavoriamo sull'idea di guerra come strumento di risoluzione delle controverse e cerchiamo di capire cosa determina questi conflitti e come possono terminare ovunque nel mondo, allora la guerra è qualcosa che può tornare vicino, molto vicino, è qualcosa su cui noi dobbiamo, la pace è su qualcosa su cui noi dobbiamo vigilare, quindi capirne i meccanismi. Per questo motivo ho cercato un po' di raccontare alcuni aspetti attraverso la voce di chi ha partecipato a questi processi, alcuni aspetti che hanno anche una loro ricorrenza all'interno dei processi. Benché ci siano delle diversità enormi da contesto a contesto, ci sono però degli elementi in qualche modo comuni. Infatti, per quello che tu hai appena detto, trovo che il tuo libro sia estremamente interessante e utile in questo momento storico che stiamo passando, proprio perché evita, spiega perché non dobbiamo semplificare, spiega di che cosa si tratta la complessità di cui tu hai parlato. Tu sei andata nei luoghi colpiti da conflitti a volte decennali e sei andata a trovare quelle persone della società civile che hanno cercato un modo per fare la pace, da posti disparati come il Camerun alla Colombia, la Sierra Leone e tanti altri. E hai incontrato le persone delle ONG come Esther Oman, direttora della ONG Reach Out Cameron o Juanita Milan Hernandez in Colombia e tanti altri. Che esperienza è stata questa per te? Allora, le storie che racconto sono… è iniziato in qualche modo cercando un po' nella memoria, perché alcuni di questi conflitti sono conflitti molto lontani nel tempo, alcuni sono attivi, altri sono processi avvenuti molti anni fa, la Sierra Leone parliamo di oltre vent'anni fa e quindi in qualche modo ho cercato nella memoria del mio lavoro quali potessero essere delle storie di successo, quindi cercare di mettere in evidenza i risultati di queste persone. In alcuni casi sono storie che io ho incontrato sul campo, ad esempio in Congo, dove il conflitto va avanti dalla fine degli anni 90 e non è mai arrivato a una conclusione, ma nella quale ci sono delle attività concrete di costruzione della pace anche in zone di conflitto, dove il conflitto è aperto. In altri casi si è trattato appunto di interviste con persone che sono memoria storica, sono state memoria storica di questi processi, penso per esempio all'inviato speciale di Kofi Annan che ha negoziato la pace in Sierra Leone e che quindi è stata un'intervista, una memoria storica di questo processo che apre moltissime questioni, in particolare quelle legate alla giustizia perché il tema della Sierra Leone ovviamente ha aperto una pagina molto importante sulla riconciliazione perché c'è stato un processo ad alcuni dei membri delle RUF, dei gruppi armati che avevano combattuto, ma anche delle forze armate governative, però c'è stata tutta una grande pagina e anche una grande discussione rispetto al concetto di amnistia. Quindi le figure che ho incontrato sono persone che spesso hanno lavorato nell'ombra e quindi che non hanno avuto una visibilità così grande e che sono riusciti a ottenere dei risultati. Io non mi sono orientata in maniera particolare rispetto al fatto che fossero per esempio operatori locali, donne, però nel fare poi questa ricerca mi sono resa conto ad esempio, ed è una cosa che mi ha profondamente colpito, di quanto le donne occupino un ruolo significativo in questi processi e delle storie che ci sono dietro. Penso alle donne di cui racconto in Yemen che partecipano e hanno sviluppato dal niente dei programmi, dei processi di disarmo comunitario, parlando agli uomini in un paese che ha una grandissima complessità con una guerra che lì in corso è lunga. C'è però da dire anche una question, c'è un altro nodo rispetto al ruolo delle donne in questi processi. La storia del Cameron è una storia molto particolare dove le donne hanno iniziato ad acquisire un ruolo fortissimo, anche perché lì sono i bambini, sono stati il berzaglio dei gruppi armati. Le donne e le madri hanno iniziato a prendere parte ai processi di pacificazione in modo estremamente efficace al punto che sono riusciti a negoziare con i gruppi armati la riapertura delle scuole. Questo però è un lavoro che di solito avviene su iniziativa delle donne attraverso la società civile. Altro discorso è la partecipazione delle donne all'interno dei processi di pace. Questo è invece un nodo che ancora deve essere affrontato. In particolare la storia della Colombia è la storia di un processo di pace inclusivo, tra i più inclusivi, benché la storia che io racconto, quella di Juanita, è dell'unica donna militare che ha negoziato in quella parte degli accordi che riguardavano il cessato del fuoco ed era l'unica donna tra il governo colombiano e le Farc. Ecco, la scoperta per me è sicuramente quella di entrare anche nelle dinamiche personali che muovono gli uomini e le donne che lavorano in questi processi, che appunto sono persone che spesso stanno nell'ombra ma che danno un enorme contributo. E poi questa scoperta sicuramente del ruolo delle donne e anche del lavoro importantissimo che fanno tutti i peacebuilder locali, quindi che conoscono la realtà. Noi spesso diciamo abbiamo, facciamo un racconto dei processi di pace come sempre in qualche modo guidati da un occidente che ha una sua visione, anche un suo linguaggio. Questa è la storia per esempio del caso colombiano dove è stato fatto un lavoro sulle singole parole perché i processi di pace sono tendenzialmente standardizzati su modelli occidentali con un linguaggio, in genere la lingua inglese, che standardizza questi processi e che spesso però non funzionano in tutte le realtà locali, incluso il concetto ad esempio della giustizia e questo è il caso della Sierra Leone dove ci sono organizzazioni che hanno cercato delle strade alternative adatte al tipo di contesto. Organizzazioni locali che hanno lavorato con metodi tradizionali all'interno delle diverse comunità. Questo è un altro elemento per me molto importante, cioè quello di vedere come alcuni elementi che sono trasversali. In qualunque conflitto ci sono determinate questioni che vanno affrontate, appunto c'è stato il fuoco, la giustizia, il disarmo, il dialogo con il nemico, con chi ha commesso dei crimini che è appunto da un punto di vista relazionale più o meno, tutti i conflitti hanno questo tipo di, bisogna affrontare questo tipo di problematiche, però poi ci sono delle declinazioni. La Colombia spiega molto bene questo, al punto che hanno cambiato, invece di chiamarlo security arrangements, hanno chiamato fine del conflitto il cessato del fuoco e c'è stato un lavoro, diciamo, su questo aspetto molto interessante rispetto al fatto che loro volevano un processo che fosse prettamente colombiano e quindi non infrontato a una visione, diciamo, occidentale in qualche modo e quindi è la lingua che, la lingua rappresenta anche questo modo di vedere, di strutturare gli accordi che non sempre tengono in considerazione la complessità in cui poi si va a lavorare. Quindi ci sono tantissimi aspetti che per me sono stati estremamente interessanti. Certo, l'elemento umano, quindi quello che ha significato per queste persone entrare dentro una complessità così grande e dover affrontare anche tanto orrore, perché chi costruisce la pace è costretto a costruire tanto orrore, ma anche ad aprire poi delle strade. C'è una storia per me straordinaria che è quella del Burundi, dove gli accordi sono iniziati con degli incontri segreti immediati dalla comunità di Sant'Egidio, dove si comprende estremamente, è estremamente chiaro, si comprende bene la complessità e la difficoltà di far sedere al tavolo. Chi non si è mai parlato, chi non si può parlare e persone che in fondo hanno ciascuno vissuto quell'orrore, che piano piano si avvicinano fino a trovare una soluzione. Infatti questi sono gli esempi più toccanti nel libro. Vedere come ogni paese ha trovato una sua soluzione. Mi ha molto colpito il ragazzo di vent'anni della Sierra Leone che faceva parte di Amnesty International e poi, oltre ad essersi seduto a fianco ai ragazzi, ai bambini che uccidono, ha poi trovato la soluzione per andare con un gruppo di altri amici di villaggio in villaggio per iniziare questo processo di riconciliazione nei modi propri di questa cultura. Ho trovato veramente una bella idea. Tu infatti hai dato molto questo senso di che cosa significa attivare il processo di pace, quanto sia complesso e lungo. Cito le tue parole. Come pacificare un paese è un processo che a guardarlo da fuori assomiglia all'arcanica meccanica di un orologio, dove basta che si incepi più piccolo degli ingranaggi perché tutto si blocchi. Infatti tu, capitolo dopo capitolo, spieghi quali sono gli ingranaggi che possono bloccarsi. La consegna delle armi da parte dei ribelli, l'amnestia per impedire che avvengano ulteriori ritorsioni carneficine, garantire la giustizia a chi ha subito fiolenza e non invece l'impunità a chi ha compiuto i soprusi. Una meccanica davvero complicata. Ci vuoi parlare di questo concetto? Sì, ecco, questo è proprio quello, la ragione poi di fondo, il senso in qualche modo del libro, cioè quello di entrare in questi meccanismi, che ovviamente le storie che racconto sono delle storie esemplificative, ci sono molti altri aspetti. La prima questione è appunto quella della complessità di cui parlavamo prima. Questa complessità è tale per cui sarebbe necessario investire sempre di più nello studio dei conflitti e dei loro processi. In realtà questo avviene ancora molto poco. Cioè noi investiamo tantissimo in ricerca militare, nello studiare strumenti sempre più complessi per ucciderci a vicenda, ma su come far terminare le guerre in realtà esistono pochi istituti, poche università specializzate, poca ricerca e pochi soldi, perché questo è un altro elemento chiave. Tutti questi processi hanno bisogno di denaro, quindi è una scelta dove vogliamo investire, nella guerra oppure nei processi che sono innanzitutto prevenzione, perché questo lo dobbiamo ricordare, non è che la guerra arriva improvvisamente scoppia. Noi abbiamo una mole di dati, di informazioni dalle quali possiamo comprendere come poi si sviluppa un conflitto e perché, quali sono gli elementi. È chiaro che le guerre hanno delle dinamiche molteplici e che sono quasi sempre generate da tutta una serie di fattori che vanno analizzati uno per uno, c'è una volontà poi politica dietro o delle scelte precise per arrivare al conflitto. Però è anche vero che poi serve chi in questo conflitto combatte, serve una società civile che sostiene l'idea della guerra e serve quindi un'informazione che spieghi come questi meccanismi si possono risolvere. Ecco, ci sono dei concetti di fondo, quello del cessato il fuoco e anche tante informazioni, oggi diciamo non si può negoziare senza che ci sia, se non c'è un cessato il fuoco. È vero ma è anche non sempre vero, perché se in alcuni casi il cessato il fuoco è una precondizione per il negoziato, in altri casi si è negoziato mentre si combatteva. Appunto la Colombia è un caso in cui questo venne addirittura stabilito. Se negoziati i segreti prima si stabilisce che qualunque cosa succede a Lavana dove si negozia, qualunque cosa succede in Colombia non deve influenzare il processo a Lavana e quindi si continua a parlare mentre in Colombia si combatte. Nella maggior parte dei casi le trattative iniziano prima e iniziano mentre si combatte. È chiaro che l'andamento sul campo influenza il negoziato e viceversa. Però anche questo è un concetto che va rivisto alla luce di quello che la storia ci insegna. La giustizia, sì, è vero che è necessario fare giustizia, ma come? E soprattutto giustizia cos'è? Verità? Punizione? Che però può diventare ragione di ulteriore odio? Quali sono i modi? Quando noi parliamo di giustizia è vero che le vittime devono avere giustizia e senza giustizia è difficile costruire la pace. Ma è pure vero che questa giustizia deve essere finalizzata alla riconciliazione altrimenti diventa uno strumento per generare vendetta. E questo si vede spesso. Il disarmo. Il disarmo significa che io devo materialmente prendere, togliere le armi ai combattenti, a chi ha combattuto e che spesso con la guerra ha vissuto. Cioè è un assurdo dire questo, ma ci sono paesi dove il conflitto è decennale e per alcuni membri dei gruppi armati è l'unico modo per vivere. Quindi a queste persone bisogna offrire delle alternative. E questo significa investire, creare dei programmi di reintegrazione dei combattenti che siano efficaci, effettivamente efficaci. Questo è stato uno dei problemi ad esempio nel processo colombiano perché nei tentativi precedenti c'erano stati processi di disarmo ma poi i membri delle FARC erano stati uccisi, aggrediti, non avevano trovato ed è ancora oggi un problema come lo è in molte altre parti, in altre zone di conflitto. Per cui queste dinamiche hanno tanta storia alle spalle che noi possiamo studiare in qualche modo per cercare di sviluppare o di mettere in campo dei programmi che siano efficaci. È chiaro che è difficilissimo, non c'è una soluzione o qualcosa che cambia il quadro facilmente e richiede anche moltissima creatività da parte degli operatori. Però ci sono casi che ci spiegano come questi meccanismi possono produrre dei risultati. Ovviamente richiedono, come dicevo, studio, una volontà e tante risorse che in realtà spesso vengono messe e indirizzate, prendono delle strade che non sono necessariamente funzionali alla pacificazione, ma anzi, come racconta per esempio la persona che ho intervistato in Yemen, possono alimentare ulteriormente i soldi che noi mettiamo in questi contesti, alimentare ulteriormente conflittualità. Infatti devo dire che delle ricerche che tu hai citato, ce n'è anche una che è interessante perché non l'avremmo mai pensata, cioè che due studiosi hanno vagliato i cessati e il fuoco nell'ex Jugoslavia dal 1989 al 2000. Ce ne fu uno 91 e il 35% di questi durò meno di una settimana. Ma la buona notizia è che nell'analizzare 196 tra cessate fuoco e i negoziati di pace più recenti, non solo nell'ex Jugoslavia, la variabile che assicurava una pace duratura era che i trattati fossero preceduti da negoziati che erano falliti. Quindi questo per dire che non è che funziona un negoziato, anzi, il fatto che ci siano stati più negoziati è come se fosse un rodaggio necessario per capire sempre di più e avvicinarsi sempre di più alla soluzione. Sì, questo è stato uno studio che è stato poi pubblicato dal New York Times e spiega una cosa interessante in realtà, e torniamo al discorso del processo, è chiaro che persone che si sono uccise l'un con l'altra, governi o entità non governative che hanno ciascuno la sua agenda, che pensano perché la guerra che ha una dinamica assurda, è come se prendesse a un certo punto vita da sola e andasse avanti, nasce in fondo perché si crede nell'inevitabilità del conflitto e che quindi non ci sia un'altra soluzione. Quando accade questo, il ciclo, quello che accade è non si ferma più, per farlo fermare ci vuole tantissimo tempo e significa avvicinare le persone, per cui in realtà non è tanto il fallimento, è che anche se sono falliti, in questi processi chi non si parlava si è incontrato, cioè perché noi continuiamo per esempio a dialogare con chi commette delle cose atroci o stiamo in organismi internazionali seduti accanto ai peggiori dittatori, perché comunque incontrarsi significa avvicinarsi, avvicinare il dialogo, quindi un fallimento significa che però io ti ho incontrato, così lì per esempio nel racconto del processo di pace in Burundi accade un po' questo, cioè lì c'era un'avventura dei protocolli dove le due parti non potevano mostrare nessuna forma di amicizia, di relazione, però in questo incontro, in questa ginnastica delle ragioni altrui come la chiama il padre Angelo Romano, le persone si incontrano, quindi il fatto di essersi seduti a un tavolo cambia già la dinamica del conflitto e questo è un fattore che è stato studiato da tanti studiosi dei processi di pacificazione, il fatto che basta inserire in questa dinamica un elemento diverso e quindi mutare, perché in qualche modo la guerra funziona, io faccio questa azione alla quale ci sarà questa risposta, alla quale ci sarà quest'altra risposta con delle regole sempre, per questo poi c'è l'escalation, quasi scontate, quando io inserisco un elemento che cambia all'improvviso questa dinamica come il sedersi a un tavolo, il processo può iniziare a prendere delle strade diverse, non subito, per cui ci sono tante fasi, spesso ci sono tanti negoziati, tanti accordi che falliscono poi si torna a sedere, l'importante è costruire su questo, riuscire a utilizzare i precedenti fallimenti per poi costruire degli accordi e soprattutto un'implementazione degli accordi, perché io posso anche sedermi e firmarmi e firmarlo l'accordo, ma poi se non lo implemento è chiaro che quell'accordo non vale niente, però si inizia a lavorare su questo, fino al punto che si arriva all'idea di compromesso, che oggi è una parola che non si può dire, compromesso, negoziato, è una cosa, fino ad alcuni anni fa, anzi un decennio fa non c'era una cultura del processo di pace, per cui questi grandi negoziatori, c'era una sorta di epica rispetto a questo, finiva una guerra ed era la grande celebrazione, appunto Nelson Mandela che stringe la mano a Bill Clinton appunto nel processo di pace in Burundi, per gli accordi di Arush, oggi questo c'è molto meno, la Colombia è stata così, è in qualche modo insomma un importante, bello quello che tutti in qualche modo spieghiamo, però significa arrivare a un compromesso, spesso questo compromesso significa rendersi appunto conto della ragione altrui o che conviene il compromesso, nel caso del Burundi è stato questo, entrambi a un certo punto si sono resi conto che la propria sicurezza dipendeva dalla sicurezza dell'altro, quindi concepire la sicurezza collettiva in un altro modo e tante negoziazioni conducono, possono condurre a questo tipo di incontro, di risultato. Vorrei adesso parlare di un altro aspetto del conflitto che leggendo il tuo libro mi è tornato alla mente, perché in qualche modo già più di dieci anni fa mi interessavo ai processi di pace, quando abitavo in Indonesia venia a conoscenza di una piccola, piccola nel senso di statura, ma non era piccola di animo, una teologa, figlia di un pastore, Liam Gogali, che veniva da Resulawesi e lei ci raccontò una storia che racconta uno degli aspetti secondo me importanti dei conflitti e che non vengono mai chiariti. Lei aveva lasciato Resulawesi per andare a studiare a Java e quando tornò si trovò con un orrore immersa in un conflitto religioso. Lei veniva dal poso, una parte molto ricca delle Resulawesi e tutt'un tratto c'erano uomini armati musulmani che arrivavano nei villaggi e uccidevano i cristiani. Poiché la convivenza e la tolleranza religiosa fa parte della cultura non solo delle Resulawesi ma di tutto l'Indonesia e in generale di tutta l'Asia, lei capì che c'era qualcosa di strano. Incominciò ad indagare e si rese conto che vi erano dei subillatori pagati da compagnie estere che avevano interessi nel trasformare la foresta in coltivazione di Palma da Cocco. Allora lei decise che per proteggere i villaggi dalla violenza era necessario chiamare a raccolta le donne e lei istituì quello che chiamò l'Istituto della Pace e andò di villaggio in villaggio, raccolse le donne cristiane e musulmane e cercò di insegnare a loro i metodi efficaci per prevenire la violenza e anche poi pacificarla una volta che si avverrava e poi anche come riconciliare una volta che era avvenuta le parti lese e che soffrivano. Come commenteresti questo tipo di esperienza in base alla tua esperienza? A me viene da fare subito un commento, ma penso che sarà lo stesso che farei tu. Allora, rispetto alla mia esperienza, in qualche modo mi viene in mente il lavoro che ho fatto nella Repubblica Democratica del Congo, dove noi raccontiamo spesso questi conflitti, sto fermandoci moltissimo sulla dimensione etnica, quindi sul fatto che la guerra in Congo, in particolare in una zona, io sono partita per andare a raccontare un conflitto in Ituri, che è una regione del nord-est, dell'est del Congo, al confine con l'Uganda, dove facendo un po' di ricerche, un lavoro fatto qui, quello che emergeva in maniera abbastanza costante era una narrazione basata su l'odio etnico, queste due etnie, gli Ema e il Endu, che si uccidono per ragioni di odio etnico e così via. In realtà poi, quando si va sul campo, ma anche quando si fanno delle ricerche un po' più approfondite rispetto alla nostra semplificazione, ci si rende conto che dietro c'è ben altro, e che quindi anche le attività e le azioni di pacificazione richiedono ben altro. Il Congo è un esempio chiarissimo di come noi continuiamo a porre l'accento sulla dimensione etnica che non è che non esista, nel senso che viene manipolata, quindi viene utilizzata affinché il conflitto vada avanti e spesso in modo assolutamente chiaro ed evidente, e quindi il processo di pacificazione deve tenere conto di questi elementi e smontare questi elementi, che sono quelli che poi scatenano la conflittualità. È chiaro che dietro ci sono sempre delle radici profonde che hanno a che fare con gli interessi, in quel caso economici, che ci sono in una zona ricchissima di minerali, però per scardinare questi meccanismi ci sono delle attività molto diverse da fare, da una parte l'informazione, chiaramente dall'altra sul campo lavorare con la società civile, perché poi, ripeto, serve chi combatte, serve chi la guerra la sostiene, e quindi la questione etnica viene utilizzata per questo, per cui bisogna, chi ho incontrato e lavora in questi ambiti in Congo fa proprio questo, cioè fa incontrare delle persone e comprendere che cosa effettivamente muove il conflitto, al punto che racconto la storia di chi cerca di utilizzare quei minerali, che sono da sempre ragione di conflittualità, in realtà per costruire dei processi di pacificazione. È un lavoro faticosissimo e lunghissimo, soprattutto in zone che rivessono un'importanza veramente strategica, immensa per tutta l'umanità, come è la Repubblica Democratica del Congo, da cui arrivano tantissimi minerali per noi essenziali. Però anche qui il racconto e il lavoro sul campo dovrebbero iniziare a scardinare queste narrazioni e quindi affrontare ad esempio la questione etnica che da un punto di vista diverso, un po' più, meno diciamo anche qui semplificatorio. Purtroppo ancora noi, ancora c'è tanto lavoro da fare, è difficile anche per chi, sia per chi opera, ma anche per chi scrive, liberarsi di certe narrazioni anche di un modo, di vedere l'altro. Io non parlo solo dell'Africa, ma ovviamente di tutto ciò che è lontano dalla nostra cultura e quindi di interpretare queste cose alla luce di una visione direi ancora legata a un immaginario coloniale o molto lontano dalla realtà dei fatti, anche da come i paesi si sono evoluti. In questo caso il Congo non è un luogo che non è cambiato nel tempo in cui la società civile non ha lavorato, anzi c'è una società civile fortissima che lavora tantissimo proprio in questa direzione per svelare questi meccanismi e lavorare sulla pacificazione attraverso il lavoro con le comunità. E anche qui le donne hanno un ruolo veramente molto importante, anche perché in un paese come quello ad esempio sono vittime della guerra, dello stupro di masse, quindi sono attrici, attori assolutamente importanti, tutta la società civile in particolare il don. Elena, io ti farei ancora tante domande, invece ne faccio l'ultima conclusiva. Vorrei riportarti le parole di Nicoletta Dentico che ci ha detto nella sua intervista riferendosi alla guerra in Ucraina. Oggi la guerra è la punta dell'iceberg, di un'agenda di morte che ci avvolge in tante maniere. Sei d'accordo? O come commenteresti questa… Assolutamente sì, la guerra è una scelta che è uno dei tanti strumenti che noi abbiamo per in qualche modo sfruttare il nostro pianeta, utilizzare tutta una serie di risorse, ha beneficio di una piccola parte della popolazione umana e a danno di tutti gli altri. E questo significa, purtroppo la guerra è così, la guerra è una fonte di ricchezza infinita, immensa per una piccola parte della popolazione. Ma questo ha a che fare anche con le scelte ambientali, agricole, commerciali. Quindi in qualche modo è un sistema che sta funzionando sulla concentrazione della ricchezza, di cui la guerra è uno strumento, concentrazione della ricchezza, diseguaglianze che crescono. Poi è un circolo vizioso perché la diseguaglianza che cosa fa? Alimenta la conflittualità. La conflittualità e la guerra alimentano a loro volta la diseguaglianza. È un meccanismo ed è anche una scelta che poi ha a che fare con un'idea di sicurezza collettiva che va totalmente rivista. Noi, la guerra, diciamo appunto, che conviene a una piccola fetta, piccolissima, microscopica fetta della popolazione mondiale, è il dramma dell'umanità e ci viene venduta costantemente come uno strumento per salvaguardare sicurezza, diritti e questo da sempre. Abbiamo visto che è fallita, è fallita in Afghanistan, è fallita ovunque e fa parte di una visione del nostro mondo che dovremmo cercare di, su questa dovremmo davvero cercare di lavorare. Io mi sono occupata per tantissimo tempo e continuo a farlo quando vado in queste zone di agricoltura, l'agricoltura è un elemento chiave nei processi di pacificazione ma anche nel generale conflittualità, quindi nel generale guerre ed è uno dei grandi strumenti di accrescimento della ricchezza nelle mani di pochi e quindi di crescita della disuguaglianza. Per cui sicuramente la guerra fa parte di una agenda di morte che comprende politiche di devastazione, di rapina del pianeta, danno dei più fragili dal clima appunto all'agricoltura. Elena, io ho trovato molto illuminanti le tue parole, sono sicura che lo sarà anche per le persone che ci ascoltano. Grazie, grazie davvero. Ti ringrazio per far parte di Woman Pride e ricordo alle persone che ci ascoltano che se vogliono conoscere il programma del progetto lo possono trovare sulla pagina Facebook di Donna Reporter. Grazie a tutte, ciao Elena.